guarda vedi quel tubo lì come perde quale ali ma è normale che vai no no non capisco perché perde cosa vedere qual è quello lì sotto ma non so se viene una goccia sia sopra e qui sopra vediamo da lì no no ma non può riempirsi di ghiaccio la di acqua la vaschetta del ghiaccio lì deve passare prima da qualcosa che raffredda l'acqua e fa il ghiaccio è impossibile che faccia una cosa così bisogna andare a verificare solo che adesso è tutto bagnato perché viene fuori lo vuotiamo ma perché viene fuori l'acqua da quel tubo lo apriamo questa carrozzeria qua e lì vediamo cosa c'è del fianco esatto lo svuotiamo